Voi perdete il vostro tempo. Già mai questo nuovo venuto, questo strumento borghese, detronizzerà il maestoso clavicembalo. E' così che Claude Balbastre, organista presso la corte di Maria Antonietta, tenta di mettere in guardia il cembalaro Pascal Tuskin circa l'avvento di questo nuovo strumento. Lo strumento da cui bisognava prendere le distanze, secondo appunto l'organista Balbastre, era il pianoforte. Era questa innovazione tecnologica che aveva cambiato il modo di suonare e di pensare la musica dell'epoca. Ciao e benvenuti su Guitaritch, il nostro canale in cui parliamo di musica a 360 gradi. Io sono Fabio Pavan, sassofonista e musicista, e oggi partiremo da un evento storico come la costruzione del pianoforte per interrogarci e riflettere sul rapporto fra tecnologia e musica. Il pianoforte è uno strumento bellissimo e sicuramente anche uno dei più conosciuti, viene usato senza riserve dai principali generi di musica che ascoltiamo, partendo dalla classica, passando per il jazz, arrivando fino al pop, ed è anche uno strumento che possiamo trovare facilmente anche dentro le nostre case. Ma la sua genesi, la sua costruzione e la sua accettazione nel tessuto sociale dell'epoca non è stata così semplice come uno si aspetterebbe. Difatti, come abbiamo potuto percepire dalle parole ascoltate all'inizio video, questo strumento ricevette non poche resistenze nel momento in cui venne creato. Ma partiamo dall'inizio. Il pianoforte, se lo vogliamo vedere come l'evoluzione di due strumenti a lui antecedenti, quindi da due genitori, deriva dall'unione delle qualità e dei pregi del clavicembalo e del clavicordo, che sebbene possono sembrare simili, in realtà erano due strumenti molto diversi con tradizioni appunto molto differenti. Il clavicembalo è uno strumento che è stato inventato dal viennese Hermann Paul verso la fine del 1300. Era uno strumento a tastiera a cui ogni tasto era collegata una corda che veniva suonata pizzicata da un plettro. In comune con l'attuale pianoforte aveva la lunghezza delle corde e la forma ad arpa della cassa armonica. Il clavicordo invece venne registrato nel 1404 e sebbene fosse uno strumento a tastiera come il clavicembalo, presentava una notevole e sostanziale differenza, ossia l'emissione del suono. Infatti, come detto prima, il suono del clavicembalo veniva emesso tramite una corda pizzicata da un plettro. Invece il clavicordo presentava quello che sarà poi il meccanismo di funzionamento del pianoforte, ossia la corda percossa dai martelletti. Fra i due strumenti, quello che ebbe più fortuna fu appunto il clavicembalo, perché semplicemente aveva una dimensione di suono molto più grande, poteva essere suonato in situazioni molto più ampie e anche in concerti, mentre invece il clavicordo poteva essere suonato nei salotti con la presenza di poche persone. Quindi non era adatto a delle grandi performance dal vivo. La qualità invece del clavicordo, che poi è stata trasmutata al pianoforte, era quella di poter permettere all'esecutore di poter fare le dinamiche, ossia delle varie sfumature che andavano dal piano al forte. Un'altra caratteristica del clavicordo, che però non venne poi utilizzata per altri strumenti a tastiera, era quella del bebung, ossia la possibilità di poter effettuare un tremolo, un vibrato, applicando una vibrazione al tasto. Il clavicembalo, dall'altra parte, non poteva fare le dinamiche. O meglio, nella letteratura clavicembalistica le troviamo i segni di dinamica piano e forte, ma erano riferiti alla possibilità di collegare alla tastiera del clavicembalo una seconda tastiera, che poteva suonare le stesse note all'ottava o all'unisolo, in modo da rafforzare il suono. Ma era comunque una limitazione, perché si poteva suonare o con una tastiera o con due tastiere, quindi o piano o forte. Tutte le sfumature, che ad esempio col clavicordo erano possibili, non erano fattibili col clavicembalo. E proprio per sopperire a questi due difetti di questi strumenti, ossia la scarsa escursione dinamica del clavicembalo e il poco volume del clavicordo, Bartolomeo Cristofori, nel 1692, inventò il primo clavicembalo piano e forte. Bartolomeo Cristofori, nato nel 1655 a Padova, ma c'è imbalaro presso la corte di Ferdinando de' Medici a Firenze, costruì questo strumento, perfezionando appunto il clavicembalo preesistente, inserendo un insieme di leve che permetteva di imprimere alla corda una forza addirittura 10 volte maggiore da quella impressa sul tasto dall'esecutore. Questo sistema di leve, appunto, che si poneva tra l'esecutore e la corda percossa, poteva dare poi la possibilità a chi suonava questo strumento tutta una serie di sfumature che andavano dal piano al forte. La paternità dello strumento ad opera di Bartolomeo Cristofori è ormai universalmente riconosciuta, ma bisogna comunque dire che ci sono stati dei suoi contemporanei che hanno tentato di trovare delle soluzioni affini e simili a quelle appunto del nostro costruttore padovano. Difatti anche il costruttore francese Marieux presentò nel 1716 all'Accademia di Francia dei progetti di uno strumento simile. Anche alla corte di Sassone nel 1721 il tedesco Schroeter presentò dei disegni e dei progetti di uno strumento che andava in quella direzione. Ma sicuramente il costruttore più fortunato è stato il tedesco Silbermann che intorno agli anni 30 del 1700 presentò una versione migliorata dello strumento di Cristofori tentando appunto poi di rivendicarne la paternità dell'invenzione. Di Silbermann in realtà sappiamo che conosceva bene l'invenzione di Bartolomeo Cristofori perché aveva letto sicuramente la traduzione in tedesco della recensione fatta anni prima da Scipione Maffei. Questa traduzione ad opera di Koenig era uscita in una rivista musicale fra il 1725 e il 1732. Sfortunatamente questo nuovo strumento che poteva dare delle grandi e nuove possibilità espressive non ebbe tanta fortuna all'inizio. Lo stesso Voltaire in una lettera lo definì come uno strumento da calderai e anche Silbermann si scontrò con un parere non proprio positivo in quegli anni. Infatti anche se è vero che il re Federico il Grande di Prussia comprò 15 esemplari degli strumenti di Silbermann l'8 maggio del 1747 successe una cosa che proprio non andò tanto giù al costruttore di strumenti. Infatti alla corte di Federico il Grande suonava come musicista di corte Carl Philippe Manuel Bach, uno dei tanti figli di Bach che interprese la carriera musicale. In quella data che appunto ho citato prima l'8 maggio del 1747 Johann Sebastian il Grande Bach andò a far visita alla corte di Federico il Grande e provò gli strumenti di Silbermann il quale non ne uscì per niente entusiasta anzi ne criticò la tastiera pesante e anche la debolezza nel registro acuto. E quella data purtroppo per Silbermann venne ricordata anche per un evento più piacevole in realtà perché è stata la data che ha visto nascere in embrione quello che diverrà poi l'offerta musicale. Infatti il re dettò al flauto il tema che diverrà il tema reggio e Johann Sebastian Bach improvvisò una fuga a tre voci sul momento che sarà appunto poi il ricercare a tre voci presente nell'offerta musicale. Silbermann che era famoso per non avere un carattere proprio leggero e che non passava facilmente sopra le critiche tornò a casa e ritornò a migliorare ulteriormente i suoi strumenti e infine riuscì anche a convincere l'esigente Johann Sebastian Bach. Nel 1732 abbiamo un alto primato tutto italiano che sono le prime composizioni per il cimbalo piano e forte veniva definito e infatti Lodovico Giustini, compositore fiorentino comporrà le prime sonate esclusivamente per questo strumento. La possibilità di avere un nuovo strumento con nuove capacità espressive era sicuramente il punto di partenza per un nuovo modo anche di vedere la musica e di poterla eseguire ma in realtà non venne molto accettata nella società dell'epoca. Sicuramente erano tanti i fattori che impedivano la grande diffusione dello strumento. Il precedente dominio del clavicembalo sul repertorio musicale strumentale sicuramente era uno dei fattori ma anche l'alto costo dello strumento infatti inizialmente il pianoforte girava soltanto tra le corti e incominciato a fermarsi con l'avvento della borghesia e anche il fatto che i semi musicisti come abbiamo sentito l'organista a inizio video o anche Johann Sebastian Bach, Voltaire lo stesso Rossini non consigliava il pianoforte per lo studio del canto. Insomma avere dei musicisti, delle persone importanti e influenti non d'accordo sull'utilizzo di questo strumento lo hanno sicuramente ostacolato. Il povero Bartolino Cristofori una volta morto Ferdinando De Medici che sicuramente era molto interessato alle innovazioni tecnologiche tornò a costruire Cembali e Spinette che era appunto il parente più piccolo dei Cembali e purtroppo non riuscì mai a godere veramente della fortuna che ebbe lo strumento in futuro. Quindi morì purtroppo senza il giusto riconoscimento e anzi come detto prima alcuni tentarono pure di impossessarsi della paternità di questo nuovo strumento che sicuramente ha cambiato il corso della musica. Basti pensare poi ai grandi compositori che ci si sono dedicati e che l'hanno sviluppato. Pensiamo appunto a Muzio Clementi il compositore e pianista romano che verrà poi definito appunto il padre del pianoforte scriverà tanti trattati riguardo questo strumento nuovo lo stesso Carl Philippe Emanuel Bach scriverà dei trattati su come suonare la tastiera Beethoven sarà il primo in quegli anni a sfruttare appieno e a far raggiungere l'apice della possibilità espressiva di questo strumento con le sue 32 sonate e 5 concerti per pianoforte solista. Non voglio soffermarmi adesso su quella che è stata l'evoluzione dello strumento in sé sull'evoluzione della letteratura dello strumento sia come strumento solista sia come mezzo per comporre per orchestra. Ci sono stati dei grandi compositori come Liszt, Chopin, Debussy che hanno appunto ampliato e ripensato la musica grazie a questo strumento quindi l'innovazione data da Bartolomeo Cristofori è stata fondamentale per quella che è la nostra storia della musica. Ma in realtà trovo molto più interessante vedere questo evento storico ossia l'invenzione del pianoforte come un passaggio evolutivo tecnologico e di come appunto la tecnologia e le arti in realtà sono sempre state in contatto tra di loro e che una poteva dare la possibilità all'altra di esprimersi al meglio e anche oggi abbiamo questo contatto ma spesso il nostro atteggiamento come artisti e come pubblico risulta essere refrattario allontaniamo quello che è la novità in virtù di quanto era bello il passato di quanto ci piaceva la musica suonata in una certa maniera e di quanto i valori di adesso non siano più quelli che funzionino e invece in realtà è un atteggiamento che c'è sempre stato e sempre ci sarà probabilmente ma riuscire a interrogarci su quello che è il nostro atteggiamento sul presente alla luce di quello che sono stati eventi storici passati forse è questa la vera bellezza e la qualità della storia e di rivedere gli eventi passati spero che abbiate trovato questo video interessante e che vi sia piaciuto io nel prepararlo mi sono molto interrogato e fatto molte domande su qual è il mio approccio nei confronti delle novità e del rapporto fra tecnologia e arte e se sono riuscito a farvi fare qualche domanda bene il video è riuscito veramente bene allora se ci sono delle domande o degli argomenti che vi piacerebbe che noi trattassimo in particolare fatecelo sapere nei commenti noi siamo sempre contenti di avere un'interazione con il pubblico e inoltre vi invito a seguirci anche negli altri social in particolar modo nel canale Viola in cui ogni lunedì facciamo una live alle otto e mezza grazie e a presto grazie a tutti 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 grazie a tutti